Ciao a tutti, sono Eleonora, ho 23 anni. Da quando utilizzo i prodotti il risultato è stato che ho perso 10 kg, ma soprattutto ho avuto un'energia incredibile, perché sono anemico alla pressione bassa, ma grazie all'uso della colazione adesso ho una carica pazzesca dalla mattina alla sera. Un altro risultato importante è stato che ho migliorato tantissimo i miei livelli di ritenzione idrica e cellulite. Questa situazione mi grava un po' di disagio, mi impediva magari di vestirmi nel modo in cui volevo, mi impediva di stare bene con me stessa, ma da quando appunto ho fatto un programma specifico adesso ho risolto tutte queste problematiche e mi sento sempre carichissima.